Dobbiamo essere qui, tutti insieme, in più siamo, in più l'ho fatto ancora per affondare queste navi. Andiamo a casa nostra, le abbono dei miei siani, le impugna, guardate, guardate, sono navi più alte assolutamente nella Basilica, sono più alte del campanile di San Marco, non hanno il diritto, e la polizia sta cercando di affondare i marchini, i marchini di Bocca Ligia iniziali, che sono qui, hanno di fare il proprio diritto, non è questo il mondo, Ciao! E cosa ne lo sa? Buona domina, vai bene, si è lì! Vuoi avere il futuro per l'elicotolo? Affondare, vuoi rimanere a parte? Allora affondare! Sarai tutte le coscienze! Vergogna! E tu, autista, non ti l'elicotolo, sarai fare in famiglia! Vergogna sta venendo con gli studenti e noi ti stiamo pagando! Stai provando tutti il pianeta di vista e anche il massaggio che stai facciamando! E tu, autista, è tutto! La primavera dell'elicotolo che ti potrebbe infenderti! Ci attaccano, sono forti di noi! Non vogliono, sono disposti! Non lo serve niente! Questa non serve niente! Gnodic, quando lei fa male alla guida e lei fa male che da una buona farà male alla guida! Vergogna! Vergogna! Non è piaciuto in questa nuova scena! Se è un progetto in un mondo, non è così! Vincere, 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 vincere! Andate via! Vincere, 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 vincere! Vincere, vincere! Vincere, 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 v